ciao ragazzi dal vostro bandito rossonero oggi video vedete alle mie spalle dove la rivendita dove dalle 10 cercherò i biglietti per la partita quindi il video lo facciamo da qui oggi perché sono già in attesa tra poco più di mezz'ora inizierà la rivendita e speriamo di riuscire a a portare a casa il trofeo martedì oggi inizia uno dei momenti quindi più caldi quello di cercare di accapararsi il posto al mapei al mapei stadium e sapete già che sarà una settimana in cui intervisteranno tutto del sassuolo caricheranno tutto e tutti comprese le piastrelle di sassuolo mentre della sandoria saprete zero perché la sandoria è già in vacanza quindi ha portato bene fino adesso speriamo porti bene anche per l'ultima poi parleremo dell'organizzazione di tutto quello che sarà la giornata sperando di riuscire a essere presenti con i nostri video della curva del mapei stadium e poi speriamo anche il dopo non lo diciamo per scaramanzia e adesso vedremo mister questa settimana come penserà di impostare la formazione ma ancora presto qualcuno pensa a un remic prima punta ma io penso che il mister insisterà perché vedendo che gli ultimi 20 minuti quando fai cambi comunque le partite a volte svoltano penso che bisognerà tener conto anche di questo è importante anche chi subentra e che chi subentra abbia la gamba e la voglia di spaccare la partita quindi adesso andrò dentro mi terrò al mio posto prima che me lo portino via e speriamo che il sistema informatico non faccia sorprese iscrivetevi a bandito rosso nero attivate le notifiche fate crescere il canale forza milan forza milan forza milan andiamoci a prendere quello che meritiamo a dopo ragazzi ciao vi faccio sapere dopo se sono riuscito